Ha imbracciato i remi per la prima volta lo scorso settembre e dieci giorni fa si è laureato campione d'Italia di Remo Ergometro, una disciplina del canottaggio svolta a secco con l'ausilio di un attrezzo nella categoria esordienti. Un'impresa incredibile portata a termine da Guido Ciardi, ventenne canottiere della società Ninobixio, che grazie a un fisico possente e una volontà di ferro, ha sbaragliato la concorrenza nelle gare svolte a San Mignato. Io non me l'aspettavo proprio, ogni giorno era come se fosse una gara nell'allenamento perché imparavo qualcosa di nuovo e l'allenatore, soprattutto Tommaso, Franco, sono stati sempre vicini e io sinceramente non me l'aspettavo proprio. È stata una gara molto dura, com'è andata quel giorno? Allora, domenica i partecipanti erano agguerriti, io ero focalizzato su me stesso e su quello che io valevo. Al termine della gara non mi sono nemmeno reso conto di essere arrivato primo perché talmente ero concentrato e preso sulla mia prestazione. Al termine il risultato ha detto che io ero vincitore e quindi sono rimasto molto stupito, oltre che contento. Ti alleni spesso proprio sul nostro grande fiume, che esperienza è? È un'esperienza unica perché comunque il Po è un compagno insieme alla barca di avventura perché ogni volta che si scende in barca e vedere il mondo, la natura intorno è un'esperienza fantastica, oltre a praticare lo sport. Passare comunque dal nuoto, che è bellissimo uno sport, che ti regala davvero tante soddisfazioni se fatto con impegno e amore. Il canottaggio però, stando a contatto con la natura, è un'esperienza totalmente diversa, che per me è un mondo nuovo. Finalmente, dopo anni di buio, si può dire, ritorna la squadra del canottaggio della Nino Bixio con una soddisfazione molto grande. Grazie allo sforzo di tutta la società, della componente del Consiglio e dei ragazzi siamo riusciti ad ottenere questo risultato che ci premia dello sforzo che abbiamo sostenuto.